tre principi la collana tre principi edita da rk edizioni nasce nel 2014 è l'unica collana in italia a pubblicare i migliori testi a livello internazionale sull'approccio di crescita e sviluppo personale chiamato appunto tre principi siamo in un'epoca in cui anche concetti come umanità spiritualità e buon senso sembrano parte di un sapere sembrano una tecnica da acquisire piuttosto che un diritto di nascita piuttosto che una condizione naturale e una nostra responsabilità la comprensione tre principi porta una boccata di aria fresca e indica la strada verso la vera cultura della consapevolezza si tratta di una semplice e profonda descrizione regalata al mondo da sydney banks con umiltà e forza generosa descrizione di cosa di come si svolge la nostra esperienza umana e di chi siamo davvero perché quando comprendiamo l'origine delle nostre sensazioni di stress rabbia o tristezza possiamo gestirle più facilmente nei libri non si trovano le ricette per gestire lo stress si trova molto di più potremo comprendere i meccanismi nascosti che creano le emozioni se avremo il coraggio di guardare e leggere con occhi nuovi una volta compresi i meccanismi il cambiamento avviene da sé in maniera naturale e in ogni persona in maniera diversa rispettando l'unicità di ogni essere umano il motivo per cui abbiamo investito così tanto in questa collana è perché sappiamo che può cambiare in meglio la vita degli esseri umani e della società intera oltre ai testi di sydney banks ci sono testi di altri autori che hanno esplorato le implicazioni di questa comprensione nei vari aspetti della vita nella scuola nelle relazioni nella vita in famiglia sul business nello sport altri sono un viaggio attraverso le proprie emozioni un viaggio interiore un viaggio di scoperta una serie di intuizioni tutti quanti raccontano storie e mostrano le implicazioni che la comprensione tra i principi può avere nell'esperienza di vita di ogni essere umano